Buongiorno, siamo allo stand di Carter, io sono Claudio Lutti. Siamo nello stand, quest'anno c'è uno stand serissimo perché diamo la priorità ai prodotti. Quindi è uno stand museale, elegante, dove sono presentati 15 nuovi prodotti che saranno, spero, le star del prossimo anno. Ci sono dei prodotti di star che amo moltissimo, c'è una sedia master che ricorda delle icone del design mondiale, ci sono dell'outdoor meraviglioso, una sedia della Patrizio Orchiola che ricorda tutta la tradizione americana delle sedie in legno. E dietro le mie spalle c'è una opera della collezione speciale che abbiamo fatto con Tokojin e abbiamo presentato, oltre che questo esemplare qua allo stand, abbiamo fatto un allestimento bellissimo nel nostro negozio, viaturate, poetico. Sembra che tutto debba volare da un momento all'altro, una delicatezza. Il salone del mobile è sempre il momento più importante e spero che resti per sempre il momento più importante di questa industria. Il salone del mobile attira da tutto il mondo l'attenzione perché è il salone creativo, è il salone degli italiani, è il salone meraviglioso. Si sente quest'anno una positività superiore all'anno scorso. Ma l'Expo, io sono stato felicissimo quando a Milano hanno assegnato l'Expo perché tutte le volte noi dobbiamo avere una meta per esprimirci meglio. so che non ci sono tanti soldi, quindi non sarà un Expo tipo quello che sarà a Shanghai ma sarà un Expo che deve essere fatto con più intelligenza mettendo un po' l'energia di tutti.